Ringraziamo Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sempre pregando per voi, rendendo grazie al Padre che ci ha resi partecipi dell'eredità dei Santi nella luce. Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno del Suo Figlio di Letto, in cui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Cristo è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. In Lui sono state create tutte le cose nei cieli e sulla terra, visibili e invisibili. Tutto è stato creato per mezzo di Lui e per Lui. Egli è prima di tutte le cose e in Lui tutte le cose sussistono. Egli è il capo del corpo, la Chiesa. È l'inizio, il primogenito dai morti, perché in tutto abbia il primato. Dio ha voluto che in Lui abitasse tutta la pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, pacificando mediante il sangue della sua croce, sia le cose che sono sulla terra, sia quelle nei cieli.